A Villa Arbusto, sull'isola d'Ischia, gli scatti di un maestro della fotografia, Giulio Parisio. Adriano Albano. 47 scatti del grande fotografo Giulio Parisio, scomparso nel 1967 in mostra fino al 30 settembre a Villa Arbusto, Ischia. Tutto nasce dal recupero delle immagini di un congresso del 1930, quello della Società Geografica Italiana, congresso ospitato a Napoli. In quell'ambito fu bandito un concorso sul paesaggio, concorso vinto proprio da Parisio. Occasione per riscoprire il grande archivio parisio custodito dall'omonima associazione che ha sede in piazza del plebiscito, sotto al porticato dove il grande fotografo aveva il proprio studio. Negli scatti l'amore di Parisio per le marine della Campania, da Napoli a Salerno, passando per Ischia e le costiere fino a spingersi in Cilento. Sette tappe disegnate dai curatori della mostra, che rientra nelle iniziative di Campania by Night della Scabec. Ogni sabato, serate speciali dalle 20 alle 24 con degustazione di vino e visita guidata a Villa Arbusto, sede del Museo archeologico Pitecuse.